Questa è l'entrata di Villa Maga su via Gramsci. Non è la parte più bella da vedere. Poi andiamo di là e vi faccio vedere la parte più bella da vedere. Diciamo due cose su Villa Maga, che vi sarebbe Villa Calderara, Maga, Zinari di Bernezzo. E' particolare perché effettivamente si vede poco da fuori. E' un parco molto interessante che tra l'altro è parallelo a via Gramsci e arriva a confinare credo addirittura con il parco di Villa Rotondi. Questa è l'entrata su via Gramsci. Adesso andiamo a vedere l'entrata sulla via di là che porta a Calderara.